Sono Claudio Federici e insieme a Leonardo Bandini gestiamo l'azienda Mora del Mugno a Bagnacavallo, l'allevamento di suini di Mora Romagnola. L'azienda è nata quasi per caso perché c'era un allevatore qua nella zona di Faenza che aveva pochissimi di questi animali, che era una razza antica praticamente in via di estinzione e allora io insieme a Leonardo abbiamo deciso di provare con alcuni animali. La nostra intenzione era quella di cercare di salvaguardare questa razza perché ha un valore, una qualità della carne molto diversa dalle altre. Noi abbiamo un motto che è perdere un sapore e perdere un sapere. La scelta che abbiamo fatto noi è quella di un'alimentazione naturale con farine e non con mangimi. Cerchiamo di dare anche ghiande, castagni per cui va da sé che la qualità è migliore. Si sente meglio il sapore della carne. Ciao, sono Claudio Federici dell'azienda Mora del Mugno. Io e Leonardo vi aspettiamo a Farmer.